Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Gioca del QS2000 e oggi siamo in gruppo su FIFA 18 ultimi team e fai un'altra partita La squadra che vengono a affrontare oggi è una Premier League grado tra i due giocatori, tre giocatori della Juve Che sono Chiellini, Alessandro e Matuidi Adesso sono tutti la Premier League grado con un affidamento 87, anche 82, proprio perché non sono male come giocatori Adesso comincia Dubito adesso Rose Matuidi Pjanic Klein Il gioco attraverso le corsie centrali piuttosto che Ecco, Klein era che scende, per il tiro Klein era che parade cultuale, si allunga L'arbitro lascia giocare Adesso canti Eriksen Ottimente il render di Coachelli Vai Klein, dai Klein Tutto libero Non ero libero, ero convinto, ragazzi, difenza alla fine Credo che voglia provare arrivare in campo Andiamo a bordo a campo Da Matteo Barzaghi Credo che si sia distorto la caviglia Ma l'infortunio non sembra tale Da obbligato a chiedere il campo Intervento difensivo Valla, ma lui ci baglia il passaggio Eriksen Occhio a Eriksen Buono bai l'irrata che interviene in modo appropriato Adesso Herrera Che anche lui ci baglia il passaggio Cante Occhio a Eriksen L'arbitro è la scuola avversaria Vai lì Alessandro La distanza tra questi due giocatori Stavano che le pensano Eriksen Ma nel tuo Sono due giocatori di talento Su cui puntano Buona la crescita La parla Giulio Eriksen Giustamente aggiungerei Madri Herrera Pjanic Herrera Eguain Facci quali provaci Da un'altra grande parola di curto Questa volta su Eguain Ma ne butta le in mezzo Manè Manè Herrera Rose Intervento efficace La difensore Che interviene Un grande client Che interviene anche In modo appropriato Pjanic Occhio a Willian Herrera Prova Herrera Sei da solo La scuola aggressiva Vogliamo così Ma vogliamo così Stai scuola aggressiva Come vogliamo Le mani Ancora la parla In posto Nostro Con Pjanic Vai Pjanic Buttale in mezzo Ok raga Va bene Lo stesso Raga Già Che stiamo avvenendo La scuola Già Va bene Raga Già va bene Con il fatto Che stiamo Attaccando Raga Va bene Già questo fatto Se questo si muove Raga A Battere il calcio L'inviglio Infatti si muove E' mosso Finalmente Abbattuto Ericsson Ericsson Candè Candè Ancora L'italiano Madri Ericsson E' Già Il movimento E' la squadra Avversaria Oh cavolo Grande Rose C'è I piani C'è Mira L'Erm Ottima Chiusura Difensiva Candy Higuain William Attenzione Perché c'è Una nuova Possibilità E' la squadra Avversaria Ancora Michi Italiano Ragazzi Tutta mia Stavola Al 1 William Herrera Valencia Chiuso Michi Italiano Ancora Ericsson Adesso Ragazzi Stanno attaccando Ora A noi Stai di passaggi Ragazzi Un attimo Stai di passaggi E' Pjanic Eh bravo Noi ci vogliamo Semplici passaggi Davolo Ha intercettato Palla Con un ottimo Tempismo Madri Di Herrera 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 Occhio al suo movimento Parenza Chiude ancora Su Mane Stai Adesso Eriksson Eriksson Dekitaria Lukaku Eriksson Rosso Grande rosa Ragazzi Ai Pjanic Vai Matuidi Dai Matuidi Dai Matuidi C'è Guardi da solo Ultima Ultima Pesca Di Ma Vini Ma Vini Fermato Aghellini Poi Ecco Ripartenza Di Aleksandra Veloce Aleksandra Com'è Veloce Uno Con Scegli Ragazzi Non basta Ancora Hai Matuidi Madonna Matuidi Che Carolo Combini Pura Ragazzi William Che Ripartiamo Stiamo Ripartire Con William Madonna Ragazzi Qua In Ragazzi Per poco Non ricevevi Il passaggio Ancora Terza Michita Arianna Prova calciare Intervento Providenziale Del portiere Ander Ederson Ragazzi Ander Ederson Corna Battuto Corpo Possibilità Di Contropiede Vai Iguain Vai Mani Dai Mani Vai Mani Mani Proci Madonna Che 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 Fatto Che Che Parata Son Mani Hai Mani Mani Lì Interrompono Bene L'azione Michi Tariana Lukaku Intervento Tempestivo Del difensore Che Intercetta Il passaggio Palla In mezzo Dopo Un buon Intervento Lukaku Non Ferma Può Mettere Da lì Niente Da Fare Gran Recupero Difensivo Gianni Cioè William Iguain 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 Maronna Raga Che Cavolo Ha combinato Iguain Fattimo Dribling Raga Iguain Iguain Ancora Marco Damo Di Fini Il primo Tempo Raga Fini Il primo Tempo Abbiamo Abbiamo Fatti Stiamo Girando Meglio Anche Rispetto Alla Scuola Mersala Però Raga Dobbiamo Conquilizzare Ancora Più Dobbiamo Gestire Un buon Meglio Il pallone Dobbiamo Gestire E si comincia Il secondo Tempo Alexander Dribano Di William Poi S Presi Schilla Anche Qua Ingra Ancora Qui Ci Sono Petri A Disposizione Sto Schilla Raga Cavolo Sto Schilla Madonna Raga 1 0 Dopo Raga Sempre Noi Siamo Noi Senti Sempre Noi Sempre Noi Sempre Noi Sempre Noi Perché Noi Perché Sempre Noi E Ecco Dunque Arrivato Il primo L'incontro 1 a 0 Errera Pianic Pianic Mi dobbiamo Anche Fallo Stavolta Attenzione William Iguain Noi Madonna Raga Sempre Soprattutto Raga Passo Purtuto Ma fa Le Palamite Cioè Nipoti Raga Nipoti Noi Scolabbi Estrano Le Calavite Soprattutto Le Palamite Herrera Pianic Madri Di Marcial Ecco Marcial Che Parte Raga Occhio Cerca L'area Di Rigore Con Marcial Così Lì Commette Fallo Su Marcial Calcio Di Punizione Cavolo Portiere Che Si Allunga E Sventa La Minata Soprattutto 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 Facciamo Già Battuto Che Bella Skill Decisivo Qui Intervento Del Difensore Che Impedito All'attaccante Di Concludere Comodamente Arete Ancora Intercettando Pianic Raga Pianic 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 Cante Difensore Chiudere Sui Pianic Matri Ancora Un passaggio Perfetto Grande Klein Che Chiude Su Marciala Ai William Matri D Rose Erickson 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 Non ce l'ha Fatta Assaltato L'avversario Madonna Rai Stai Skill Madonna Rai Stai Farsi Contrasti Più Unito Buona L'idea Qui Arbitro Che ferma Il gioco Madonna 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 Conclusione Potente Ma Qualchiera L'avore Nessun 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 Tain Pianic 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 Punta L'area Rai 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 Intervento Rai Intervento Rai Rai Intervento Rai Erickson l'interrope bene la zona raga ma sempre qua ci fermano ora lo ferma ma non controlla ma qui d dai pianici dai pianici dai pianici occhia pianica può scambiare con il compagno buono madonna raga sempre qua ci fermano raga famiglia attaccanti sanzito e non devono 1 blind ragazzi madonna madonna sempre questi passaggi madonna mannaggia la miseria mannaggia mannaggia la miseria mannaggia la miseria raga 2 a 0 2 a 0 non facile per quanto si è visto finora che cavolo combinano i miei giocatori che combinano che ragazzi uno c'è ma un altro c'è sanno gestire la palla o no sanno gestire sto pallone è un brutto fallo vediamo se l'arbitro prende il problema e allora madonna pure i falli facciamo chiellini chiellini alexandro ancora un quarto d'ora da giocare ma qui d guadagna metri verso l'area pianici madonna ma sanno facendo girare molto bene il pallone oggi un ottimo possesso palla bello mi piace attenzione occasione e un amato di cavolo cante occhio a lukaku strabito a dire che sembra un po' madonna qua ma sono tutto entormento oggi sono almeno i miei giocatori in questo tempo c'era dopo un primo buon primo tempo che hanno fatto a spazio per avanzare potrebbe grossare forza poi abbiamo sta palla prendiamola cante erics intervento tempestivo l'interazione che accetta il passaggio hai madri di buono i guai in madri di matri di alla verticale di matri di uno ma dei progetti mani madonna qua che entra parola del portiere culturale altra parola di culturale janici si salva di pugno matri di tutto fermo i guai anche in fuori gioco ragazzi cantè ha spazio per andare e quale bisogna andare portaballa eeeh vabbè ah vabbè vabbè ah vabbè ah ai pianici ai william dai william dai william dai william giocato solo grande ci saranno tre minuti di recupero pierre difesa avversaria è piazzata male Lorenzo la chiude ridicola palla prima che arrivava william ma siamo persi anche quest'altra partita è persa ma da indietro al portiere sempre stai skill madonna e raga ma è finita raga ma è finita anche questa ragazzi una volta facciamo più tiri ragazzi c'è il portiere una volta che ha difeso ragazzi sembriò devo fare le conseguenze non è giusto ragazzi ho fatto non è giusto ragazzi con questo video spero che vi sia piaciuto commentate condividete se non siete iscritti vedetevi e noi ci vediamo in un prossimo video ciao